Allora Sergio, prima Max ci ha raccontato di questo piccolo episodio che era successo a Marghera, confermi la cosa, qual è la tua versione? La mia versione conferma abbastanza quello che è successo, nel senso che era il primo anno che suonavo con loro, io sono arrivato negli Africa veramente molto ragazzino, perché avevo poco più di vent'anni, loro erano più grandi e quindi io ero molto timido all'inizio. E parlavo poco e quindi evidentemente, non lo so, purtroppo non si sono accorti che mi avevano dimenticato. È una cosa brutta, i tuoi compagni ti lasciano? Forse non ho un mondo di amici intorno a me, ecco, in questo momento. Cioè io, non so, avrei voluto vedere la tua faccia quando ti sei accorto che se ne erano andati? Allora io mi sono accorto che sono uscito, sono andato in bagno, sono uscito stanza buia, tra l'altro casa buia, eravamo a casa di qualcuno che ci ha ospitati a mangiare la pizza, casa buia, guardo dalla fine se vedo il furgone andare. No. E ho detto, vabbè, torneranno. E ho aspettato e non sono tornato. Quindi la cosa brutta non è che mi abbiano dimenticato. E che non si sono accorti. La cosa veramente brutta è che sono arrivati fino qua e non se ne sono accorti. E hanno cominciato a suonare. Ho dovuto uscire da questa casa, cercare il posto, perché ovviamente non sapevo dove ero. Quindi ho cominciato a chiedere ai passanti dove era il posto, finché sono arrivato a piedi, sono entrato, ho fatto la coda. Non mi lasciavano entrare perché non avevo passi niente. E loro stavano suonando. Cioè il problema è che loro addirittura sono saliti sul palco senza accorgersi che non c'ero. Che strigliata d'orecchie le hai dato. O eri troppo giovane e non l'hai fatto? Ho già stato suonato sul palco, ho suonato e poi ho cercato di stendere un velo pietoso su tutta la storia. Ho cercato di non dar troppo peso. Dopo vent'anni ti fai ascoltare un po' di più. Ok. A testate. Va bene. Ringraziamo anche Sergio questa piccola pillola. Visto che abbiamo parlato dell'aneddoto, era giusto raccontarla in viva voce. No, grazie a voi. Grazie.